Siamo nei giorni dopo la risurrezione e Gesù si manifesta per la terza volta. Sempre di buon umore diamo il nostro bentrovato a padre Ernesto della Corte. Buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua a voi nella terza domenica di Pasqua. Hai detto bene, viviamo un momento di grande gioia, ma come si fa a non gioire? Oggi Signora addirittura ci invita, venite a mangiare. E il testo meraviglioso, noi l'abbiamo commentato molte domeniche fa, nel Vangelo secondo Luca, è il famoso capitolo 5, la pesca mitacolosa. Solo che Giovanni la mette nel capitolo 21, quindi dopo Pasqua. È un capitolo che è stato elaborato dalla comunità giovannea, perché dopo la Pasqua la comunità di Giovanni fa il ricordo di questa pesca miracolosa. Siamo davanti al momento in cui c'è l'attività della Chiesa. Cristo consegna alla Chiesa il compito di testimoniare, questo magistero di testimoniare la Pasqua. E abbiamo due figure molto importanti, Pietro e Giovanni. Come le abbiamo trovate nel giorno di Pasqua, quando corrono a sepolcre, avvisate però dalle donne, tra cui Maria Maddalena. Dove siamo oggi con questo testo? Non siamo più a Gerusalemme. Siamo tornati sul lago di Tiberiade, detto anche il mare di Galilea, perché è molto grande. Intorno al quale Gesù ha annunziato, quando è stato qui in mezzo a noi, il regno di Dio, ha raccontato le parabole, ha operato molti segni. Ora, chi ci sta davanti a Gesù? Stradamente Giovanni ci riporta, se contiamo bene i nomi, sono Simon Pietro, che viene chiamato col doppio nome, quindi anche col nome che gli è stato dato da Gesù, che fa proprio all'inizio del ministero. Poi c'è Tommaso, che noi abbiamo trovato otto giorni dopo la Pasqua, questo grande discepolo che poi fa la professione di fede più grande. Lui è detto anche Didimo, il gemello. Poi c'è Natanaere, di Cana di Galilea, che pure è apparso all'inizio del ministero. Gesù lo ha definito davvero un'israelita in cui non c'è dolo, non c'è falsità. Poi ci sono i due figli di Zebedeo, e quindi Giacomo e Giovanni, e abbiamo due discepoli senza nome. Credo che uno dei due sia certamente questo discepolo amato da Gesù. Sono sette, è il numero che è importante, sette, cioè il numero della completezza, dell'universalità. Evidentemente il Vangelo vuole dirci che c'è un'idea di missione universale e perfetta della Chiesa. La Chiesa ha questo numero sette. E Pietro comunica ai fratelli di voler andare a pescare. Attenzione a non farci distogliere, non è un'immagine semplice, la pesca to court, ma è l'immagine della missione della Chiesa. Ormai è diventato un termine tecnico andare a pescare, l'immagine della missione. E i suoi fratelli lo seguono. Ma in quella notte, notiamo bene il termine, in greco dice non catturarono nulla. In genere le Bibbie in italiano dicono non presero nulla. In realtà è il verbo catturare. È un verbo usato davvero sette volte prima di questo capitolo 21. Sempre per dire che non si riusciva a catturare Gesù. Poi c'è l'immagine della notte, che pure è interessante. Perché in Giovanni la notte esprime l'incapacità di agire dell'uomo. L'umanità è sempre nella notte. È come quel cieco nato. Cioè essere nella notte significa non essere capaci di nulla. Ma Gesù l'aveva detto nei discorsi dell'ultima cena. Senza di me, voi, non potete far nulla. È il capitolo 15, versetto 5. Un versetto davvero importante. Quando arriva finalmente la luce, Gesù scendeva nel Tempio, anche al capitolo 8, sempre all'aurora. Lui è la luce che viene dall'alto. Gesù dice il testo, stette sulla riva, senza che i discepoli se ne accorgono. E poi li chiamano. Pai via, figlioli, ragazze. Non avete nulla da mangiare? Dice il risorto. Ottenendo una risposta negativa da parte di quelli che non lo riconoscono. Allora dò un ordine. Gettate dalla parte destra la rete. Evidentemente la parte destra nella Bibbia è sempre la parte nobile. Ma potrebbe esserci qui un'allusione molto forte alla parte destra del Tempio. Qui il testo vuole dire che il risorto ha compiuto la profezia di Ezechiele 47. Quando il profeta vede alla destra del Tempio, sul lato destro del Tempio, c'è una spaccatura da cui esce l'acqua. L'acqua è la simbologia dello Spirito. Abbiamo visto nel Venerdì Santo l'allusione al costato crucifisso di Cristo morente, da cui esce sangue ed acqua, simbolo anche delle Eucaristie e dello Spirito. Che vuole dirci il testo oggi? Non è possibile pensare alla missione apostolica, alla missione della Chiesa, alla missione che il risorto ha consegnato ai discepoli nel Cenacolo, testo di domenica scorsa, senza la presenza di Cristo. Se Cristo non sta nel mezzo, se Cristo non è il centro della Chiesa, la Chiesa non può nulla. Ecco perché chi lo riconosce ancora una volta è il discepolo amato. Quello che correva più veloce verso la tomba è Giovanni, l'Evangelista, il più giovane. È il Signore, lo riconosce, l'intuito. È come quando è entrato nella tomba. Vide Eiden Kai Episteusen. Vide e cominciò a credere. Però questa volta Pietro ascolta subito il proclama del fratello Giovanni. Subito si cinge i fianchi. Una bella espressione che sembra strana nella storia. Si lancia in acqua vestendosi. In realtà l'allusione alla lavanda dei piedi del capitolo 13, che abbiamo visto nel Giovedì Santo, nella messa in Cina Domini, quando Pietro ha fatto fatica a lasciarsi lavare i piedi. Ora è pronto al servizio. Ora finalmente, dopo la Pasqua, può tuffarsi in acqua l'immagine del battesimo, dell'immersione, del servizio. Anche Luca 5, Gesù dice andate nel profondo, immergetevi, per raggiungere Cristo che sta sulla riva. Il quale nel frattempo ha già preparato il pesce sulla braccia. Quindi è già lui che ha portato del pesce. Poi chiede loro di portarne di quello pescato. Quindi oltre il pesce che ha fatto pescare, porta anche il suo, e mettono insieme le due cose. È un simbolismo meraviglioso. Cosa vuole dirci il Vangelo? L'Eucaristia è una condivisione. Quindi siamo tutti chiamati, anche quei dicevoli senza nome, a collaborare. Siamo tutti corresponsabili nella Chiesa. E Pietro è sollecito. È bella questa immagine in cui lui sale sulla barca e trascina a riva questa lete con 153 grossi pesci. Immaginate lo sforzo, la fatica che ha fatto per far capire quanto se si opera in Gesù Cristo si ha davvero la forza e l'autorità per poter intervenire. Perché 153? 153 è un numero che i matematici conoscevano. Se intanto sommiamo le cifre, 1 più 5 più 3, in realtà viene 9. cioè 3 per 3. 3 è il numero di Dio moltiplicato per se stessa. Che vuole dire? Qual è il valore simbolico? 153 uguale a 9, cioè 3 per 3, cioè tutto. Con Cristo tutto è possibile. Senza di noi nulla. E la rete, un po' come abbiamo visto durante la passione, la tunica sulla croce che è inconsuntile, fatta tutto di un pezzo e i soldati la tirano a sorte per non strapparla. È la simbologia dell'unità della Chiesa. Così questa rete non viene divisa, non viene squarciata, perché la Chiesa ha una unità che è dovuta allo Spirito Santo. Che cosa vuol dire tutto questo? Perché poi dopo il testo chiede Gesù, il crisorto chiede a Pietro il primato dell'amore con quelle famose domande Pietro mi ami tu più di costoro è un consegnare a Pietro il primato dell'amore. L'essere pastore significa davvero lo stare in mezzo agli agnelli per non farli diventare poi soltanto una manovranza nella Chiesa. I pastori hanno una grande responsabilità, quello di nutrire le pecore, ma sarà il Vangelo proprio di domenica prossima che noi vedremo. Bisogna pascere con la parola e con il governo dell'amore. Nella Chiesa non deve esserci paternalismo, deve esserci un'identificazione con l'unico vero agnello che è diventato pastore. E Giovanni qual è il ruolo che gioca in questo Vangelo? Lui è il discepolo amato, il più giovane, lui è colui che resta rispetto a Pietro, ma resta nella misura in cui ci ha consegnato un Vangelo, quel Vangelo che ancora oggi meditiamo, lui che è definito dei nostri padri greci, il teologo. Giovanni è l'Evangelista che ci racconta della presenza di Gesù risorto in mezzo a noi. E grazie a queste pagine noi ancora una volta ascoltiamo e viviamo questo Vangelo che è Cristo Signore. Ecco perché oggi dobbiamo davvero ripensare anche all'Eucaristia come una condivisione. Gesù ha preparato la braccia e ha messo il pesce che ha portato lui ma ci chiede di portare anche quello che lui ci ha fatto portare. C'è una corresponsabilità. Siamo chiamati come Chiesa, come comunità e come singoli a costruire quella somiglianza con Dio dopo aver ricevuto il grande dono di essere stati fatti a immagine del Padre. Bene, abbiamo imparato a capire come si incontra e aprire il cuore al Signore in questa giornata. Davvero bello perché ripeto la lettura di oggi è un'esperienza meravigliosa dell'Eucaristia. Noi passiamo dall'esperienza della sterilità dell'impotenza del nulla senza Cristo al tutto insieme con lui. Io credo che oggi davvero il Vangelo risottolinei la centralità di Gesù Cristo. Tutto si gioca intorno a questa centralità ecco perché i Santi pensiamo a Paolo di Tarso a Francesco d'Assisi a Pio da Pietro sono veramente innamorati di Gesù Cristo. Cristo è il centro della loro vita. Ancora una volta la Chiesa deve riprendere questa centralità dell'unica luce dell'unico sole che sorge dall'alto che è Gesù Cristo. Con lui tutto senza di lui non possiamo far nulla. Nulla. Grazie Padre Ernesto anche per oggi ci ritroviamo la prossima settimana sempre in conversazioni bibliche. Grazie a voi buona Pasqua della settimana. Shalom. Shalom. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.